riflettori puntati alla giornata di domani 15 luglio 2017 per quale motivo vi starete giustamente chiedendo esemi utenti di youtube molto semplice perché domani al parco della musica ci sarà per l'appunto un live tutto di francesco gabbani gabbani reduce dalla vittoria con il suo occidentale scarma questa bellissima canzone che ha vinto il festival di sanremo 2017 adesso si prepara questo live molto atteso portando in scena molta musica e soprattutto una voglia di farsi vedere e soprattutto di farsi notare degna di nota sarà un live molto focalizzato alle canzoni alla buona musica a bella musica ci sono delle responsabilità che il buon gabbani si sente di dover portare sulle spalle vuole garantire da suo conto una capacità musicale elevata e soprattutto vuole far vedere di che passo è fatto e io esimi utenti di youtube vi dico che un personaggio come questo sa veramente spiccare il volo come già è riuscito a spiccare con il suo pezzo di battaglia occidentali scarma domani ci sarà dunque ripeto 15 luglio 2017 a roma parco della musica però come lui stesso avrebbe precisato ironicamente dimenticatevi della scimmia perché non ci sarà non la vedremo bene ovviamente la sua è una battuta divertente simpatica briosa e quindi allegra il video termina qua iscrivetevi mi raccomando commentate un caro saluto da parte mia